Ciao ragazzi e ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo video Allora oggi faccio colazione con voi perché è mattina, mi sono svegliato così dal nulla e avevo bisogno di svegliarmi un po' e quindi ho detto sapete cosa, devo fare un video perché mi sono ricordato che un monte d'anni fa Sì, anni fa, vedete il dormo ancora Un monte di giorni fa sul mio Instagram Vi avevo linkato il link dell'app quella per farmi le domande in anonimo o comunque di scrivermi qualcosa in anonimo e da quel giorno, io l'avevo fatto con la premessa di volerci fare un mega video io ovviamente non ho più aperto l'app Ora, andiamo a vedere perché c'è da rispondere Oh mamma, oh mamma Ok, allora abbiamo tutte queste Ma com'è possibile ragazzi che quando vi lascio il box delle info, delle domande normali tre domande e quelle anonime 800 miliardi devo dire che molti nemici molto onore nel mio caso non c'è neanche quello Comunque, cosa ho preso? Ho preso il mio classico frappuccino che è questo qua, espresso e poi ho preso a regola sperando che me l'hanno messo giusto, sì il toast Oggi mandava il toast che è questo qua super enorme ma è fatto anche male insomma è grossissimo, è grosso quanto una mia mano quindi, va bene possiamo essere contenti oggi dai, bravo stai, basta hai fatto il tuo lavoro Allora io ovviamente come potete vedere sono rosse quindi queste sono quelle già viste quelle rosse sono quelle che non ho proprio aperto quindi le scopriremo in diretta e vedremo questa cannuccia di carta non mi interessa perché ho questa direi che possiamo iniziare come si fa a fregarsene di quello che la gente può pensare di te proprio non mi riesce e mi fa star male eh, come si fa? eh, non si fa? io non so che dici perché io praticamente sono un po' anestesizzato no? perché ormai abitudine però è ovvio che te ne frega di quello che pensa la gente di te è ovvio perché siamo in una società così che deve essere un gruppo ok? e quindi è normale no? che uno dice oddio chissà cosa pensi è normale che uno ci pensi ed è normale che uno ci rimanga male quando si scoprono cose brutte e può alla fine amo si può rimanere male no? ma chi se ne frega? ok? ci rimani male quei cinque minuti e poi la sua vita va avanti amore perché chi se ne frega di questi che stanno a pensare male di te piuttosto che sta a vivere la propria vita cioè mimbo non capisco vivi e lascia vive ma se non lasci vive un mi rompucà prossima quando la posta del cuore eh non lo so non lo so adesso ci sono tantissimi video da fare la posta del cuore vediamo sei strafavoloso oh però Mario questa è la pillolina io mi aspetto chissà cosa single eh l'ho già raccontato sto conoscendo diciamo così perché non utilizzi più la macchinetta per i vlog che ti aveva regalato Chiara Facchetti semplicemente perché eh super bella super favolosa ma adesso facendo un video al giorno ci mettevo troppo per eh portare i video da quella macchinetta al computer per girarli per ehm fare in modo di abbassare la quantità di di spazio che mi prendeva insomma faccio tutto col telefono faccio molto prima semplicemente per quello dici sempre di essere sfortunato in amore ma poi ti fidanzi alla luce alla velocità della luce e fai pem pem con molta facilità lo dici per risultare più simpatico ai veri sfortunati in amore allora io non so chi stai seguendo o magari se mi segui ma eh ti fidanzi alla velocità della luce io non sono fidanzato da tipo quattro anni cinque se non ci metti la storia che ero l'amante forse di più ora frequentazioni ne ho avute ovviamente ma fidanzato fidanzato da dire mi sono fidanzato sono anni e anni che io non vedo fidanzato ragazzi fai pem pem con molta felicità non è una cosa mia è una cosa dei gays in generale è facilissimo fare quella cosa lì quindi cioè quando io dico che sono sfortunato in amore non dico che sono sfortunato mh per far pena e per far sì che la gente dica oh vedi non sono l'unica anche lui no lo dico perché è vero perché ogni volta che magari fino a ora eh fai ricordo eh frequento qualcuno inizia fortissimo da parte sua tra le altre cose che fanno di tutto per conquistarti e poi si tirano indietro oppure fanno cose che a me non vanno bene ok e quindi eh la frequentazione non diventa mai finanziamento e fino a ora sono sempre durate massimo un mese queste frequentazioni quindi mh non lo so ragazza o ragazzo però ero sfortunato sono sfortunato vediamo se cambierà la situazione mi dispiace vedere che tu e Diego vi siete allontanati molto non negarlo è evidente a tutti e da mesi ma guarda in realtà l'unica cosa che voi potete vedere è che Diego non fa più video ma semplicemente perché prima prima delle ferie di luglio di agosto era sempre al lavoro e quindi non aveva tempo per fare video e io ho smesso di chiedergli se voleva fare dei video perché mh all'inizio non aveva tempo aveva da fare le sue ose quindi così il weekend che è la maggior parte del tempo che io registro i video della settimana lui ovviamente giustamente è col fidanzato non è che non vedete più video e allora ci siamo allontanati c'è da dire che quest'anno rispetto alle altre volte agli altri anni abbiamo fatto vacanze separate ma quest'anno rispetto agli altri anni lui è fidanzato quindi ovviamente ha fatto le vacanze col fidanzato ok così ma non c'è nulla di strano mi sembra una cosa normale anche io ho fatto le vacanze col fidanzato che non ho con il frequentante però non lo so what phone do you have? iphone 13 pro max poi ho anche l'iphone 12 pro max poi ho anche il samsung flip flop o qualcosa del genere non mi ricordo come si chiama quello che si apre così e poi ho ancora l'iphone xr ma non funziona più ho ancora l'iphone 6 plus ma mi serve solo per i video compromettenti e basta con i social youtube tiktok e instagram riesce a recuperare i soldi delle spese che fai con lo shopping? io capisco perché fare queste domande è un anonimo d'oro comunque no per esempio ma assolutamente no ma perché esagero io e soprattutto perché quest'anno come ben sapete mi guarda un terzo delle persone che mi guardavano con il covid per esempio per esempio dicevo la settimana del demolle io come ben sapete ho spesso più di 2000 euro non ci ho guadagnato nemmeno un terzo alla fine per ora quindi no però ci ho guadagnato in boh creatività secondo me in soddisfazione in divertimento e sì era una cosa che volevo fare quindi va benissimo con tiktok non ne parliamo perché faccio un euro al giorno se va bene qual è il video che hai fatto di cui vai meno fiero? hai mai fatto video solo perché sapevi avrebbe avuto tante visualizzazioni ma che non ti piaceva girare? tutti tubissima ok non gli spilling the tea i tubissima quando parlavo degli altri youtuber ovviamente io ho iniziato quella rubrica apposta perché era il momento giusto all'epoca e perché non lo faceva nessuno e soprattutto perché parlando di persone che prima avevano più follower di me ovviamente il video girava molto di più e io mi dovevo far conoscere in qualche modo quindi quei video sono stati fatti appositamente non perché mi piace ciabattare ovviamente mi piace ciabattare però molte persone di cui parlavo nemmeno le conoscevo e quindi mi sono fatto poi tutta una cultura dopo e poi mi sono appassionato ok però inizialmente sono stati fatti apposta per queste cose ti sei pentito di aver abbandonato Istima 91 per essere solo Cristiano Cervini comportando un drastico calo di visualizzazioni perché gli amanti del trash ti hanno visto più serioso allora c'è un un po' di verità in questa affermazione domanda che però non è propriamente così allora non mi sono pentito di aver abbandonato Istima 91 rispetto a Cristiano Cervini anche perché i video su per giù la serietà è quella è rimasta quella non è che perché uno usa il proprio nome rispetto a un nickname ha cambiato tutto ho cambiato perché mi è sembrato alla soglia dei 30 anni oh mamma voglio morire mi è sembrato opportuno smetterla con il nickname e avere un nome mio il nome vero e il fatto del calo drastico però delle visualizzazioni è vero che da quando ho cambiato il nome i miei video girano meno voi tutti i problemi ne abbiamo già parlato basta però mi sembra che è come se youtube mi avesse tipo un po' penalizzato perché ho deciso di cambiare il nome non lo so perché questa cosa oltre a tutte le altre cose vabbè è passato di moda si haters vi aspetto però è così ma non penso che sia perché le persone hanno pensato che fossi più serioso perché comunque bastano i titoli dei miei video e vabbè secondo me è proprio un fatto che girano poco li fa girare poco youtube quindi non lo so questo però ci penso hai mai rubato le idee di un video a qualche altro youtuber magari straniero così speravi nessuno se ne accorgesse eh sì ovvio con gli americani tutti si fa che si si prende esempio da loro però vi racconto una cosa ho fatto qualche anno fa non so se ve lo ricordate tipo 24 ore nella vita della diva del tubo e era un vlog alla fine dove lei mi portava nella sua vita questa cosa e lo dico proprio sinceramente seriamente l'ho rubata a Kevin Ruiz ma non l'ho rubata con l'intenzione di rubagliela ok io proprio non me ne ero reso conto non me ne ero accorto ma ovviamente poi lui me l'ha detto cosa era successo qualche tempo prima io e lui ci sarei visti e lui mi aveva raccontato che aveva in mente di fare questo progetto in cui parlava con uno o un altro youtuber per voler passare una giornata insieme a lui e quindi fare 24 ore nella vita di ok poi ho visto la diva del tubo e lei mi aveva invitato a fare una serata di quelle schiave padroni no schiavo e padrone e quindi mi è venuto in mente a me così ho fatto sai cosa lo intitolo 24 ore nella vita della diva del tubo ma in realtà in quel momento io non ci pensavo che era un'idea che inconsciamente stavo copiando da Kevin che mi aveva raccontato qualche settimana dopo me ne sono reso conto quando lui mi ha scritto mi ha detto oh brutto è come io ti parlo di questo mio progetto e te ci fai il video sopra sei uno str e lì guardate mi sono sentito malissimo veramente perché lì mi sono reso conto che ho detto oh meo guarda la mia mente malata come funziona male che non m'era proprio passato per l'anticamera del cervello che era un'idea sua io ero anche convinto quando ho pubblicato il video che bella cosa che novità roba ganza no così l'ho inventata io in realtà no nel mio inconscio e poi conscio si dice era un'idea che avevo sgraffignato a lui quindi scusami ancora amore come va con il tuo ragazzo non mi sembravi convinto che prosegua in uno degli ultimi video pubblicati no no prosegue prosegue non ti sembravo convinto perché non so che situazione c'è ma però va tutto bene il trattamento per l'occhiaie è uno spreco di soldi ti stanno scammando non si nota nessun miglioramento non si nota nessun miglioramento semplicemente perché non lo faccio più da tre mesi quindi è normale una cosa del genere anzi ci devo tornare dal chirurgo adesso sei un bono grazie mille magari prosegue la tua frequentazione sei felice allora sì avevo detto che non ne parlavo però sì sono felice al momento sei mai stato uno strunz sì io ragazzi in realtà lo sono cioè voi mi vedete tutto così carino bellino ma quando c'è da farlo lo faccio e non me ne frega di chi ho davanti lo faccio senza problemi come si chiama il tè freddo di starbucks molto buono a tuo dire è quello nuovo oh mamma come si ama non lo so iced tea qualcosa però con la limonata è un miriordo ragazzi però è stivo ormai ora c'è le osse pumpkins ti rendi conto che hai dei rush di adrenalina quando acquisti capi costosi non lo trovi triste no perché perché dovrebbe essere una cosa triste alla fine mi cadimi drogo cioè è una cosa che fa bene a me fa bene all'economia fa male alla mia banca ai miei soldi ma a te cosa te ne viene non lo so io queste cose non capisco quando pubblico questi video ci sono tantissimi commenti tipo così che tristezza oppure io non avrei mai speso questi soldi oppure io con quei soldi ci pago l'affitto per un anno vi posso dire una cosa sinceramente ma chi se ne frega nel senso voi infatti non avete fatto il video il video è mio è normale che io con i miei soldi faccio queste cose è quello che mi pare no se il video era vostro facevate le vostre cose cioè io non capisco questa roba di dover dire per forza la propria situazione che è peggiore di un'altra situazione per passarci bene non ci passi bene ci passi solo da boh ma è una un popular opinion mi potete offendere per questo quando i tuoi genitori si sono separati sei andato a vivere con tuo padre e tuo fratello no 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 io sono rimasto con mia madre e mio fratello poi dopo sono andato da mio padre quando mia madre e il suo boyfriend mi hanno buttato fuori di casa semplicemente così penso che Diego un pensierino lo avrebbe anche fatto su di te ma tu no 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 né io né lui ma perché io conosco i suoi gusti lui conosce i miei gusti mai non non siamo a incastro anche volendo no ti metteresti mai con un uomo nero ma a mai dire mai perché dovrei dire di no scusa se mi ci trovo bene racconta episodi di bullismo c'è c'è uno story time se vai nella sezione playlist story time c'è un story time intero in cui racconto tutto quello o su per giù la maggior parte di quello che ho subito è tipo tutta la merd che ho subito per il fatto di essere gay qualcosa del genere comunque è uno dei primissimi story time che ho fatto cosa ne pensi del politicamente corretto ps non so se ancora una tua insicurezza ma secondo me sei bellissimo grazie mille allora il politicamente corretto è un'arma a doppio taglio perché per me è giusto ok essere corretti per tutto perché qualcuno ci può rimanere male è anche vero che una battuta la puoi fare se è una battuta senza un intento cattivo il black humor il dark humor io vado pazzo per queste cose però posso anche capire che qualcuno ci può rimanere male posso essere io se parlano dei gay in un determinato modo può essere una persona nera può essere una persona qualsiasi però ogni tanto ci sta dai ti senti più uomo o donna? amore se io mi sentissi donna avrei fatto di tutto per cambiare sesso e fare appunto il cambiamento quindi probabilmente mi sento uomo l'ultimo bacio appassionato quando l'hai dato sabato quando ci presenterai il tuo fidanzato segreto? mai perché se no che fidanzato segreto è? allora tra i tuoi seguiti c'è qualche ragazzo che ti piace ma non lo sa? sì sì questa basta sono fatta mille volte questa no è ancora così questa no è volgare grazie mille per i tuoi contenuti grazie a te per la prep si può andare semplicemente dal medico curante o per forza uno speciale ospedale specifici? non lo so io sono andato in ospedale specifico perché ce l'ho qui vicino quindi non so magari se chiedi al tuo medico lui poi ovviamente lo sa cosa fare e ti dirà tutto la prep è da tra vabbè dipende dipende che uso ne fai nel senso come va il tuo fidanzato allora pensi che la notorietà ti abbia dato alla testa? risposta onesta please ecco appunto allora risposta onesta come sempre sì ma anche no perché quando ho iniziato a fare un po' più di soldi rispetto al normale devo dire che sì sono un po' tipo un po' impazzito ma non nel senso di dire ah non sai chi sono io ah così ma nel senso che mi sentivo quasi invincibile no? super potente che nessuno mi poteva scalfire che io potevo fare tutto quello che volevo perché avevo seguito i miei video andavano tantissimo facevo tanti soldi compravo tantissime cose e ovunque andassi mi chiedevano foto ok? quindi un attimino uno fa aspetta un attimo sì però non mi sono mai montato la testa come per dire ah io con te non ci parlo perché te fai schifo non hai follower oppure ma tu non sai chi sono io lo abbiamo detto con i miei amici così per scherzare tipo quando ci fanno aspettare più di mezz'ora al ristorante allora io quando i miei amici fanno ma loro non sanno chi sono io ma penso che lo facciano tutti questa cosa così per scherzare non ho mai fatto sceneggiate del genere a nessuno in realtà e adesso poi sono ritornato con i piedi per terra ovviamente però diciamo che mi aveva dato alla testa mi aveva un attimo inebriato ok però no adoravo i video in cui ti truccavi erano i miei prefe ah li posso fare ogni tanto tipo seguo il tutorial di se volete fatemelo sapere urge consiglio io e il mio ormai ex ci siamo lasciati perché non andavamo d'accordo ieri parlando ho detto di ripensarci visto che ci abbiamo ancora e di farmi sapere lui ha detto che ci avrebbe pensato che faccio aspetto che mi faccia sapere ma sei già uno zerbino innanzitutto no se vi siete allora io sono dell'idea che se vi siete già lasciati con dei motivi specifici e soprattutto seri è inutile tornare insieme perché non andrà mai bene se vi siete lasciati per perché magari c'era la distanza o perché uno per lavoro è andato via e quindi cioè se non c'è stato niente di serio che ha scatenato il lasciarsi allora sì una volta ritrovati però già questo che dice ci penso lo sai già se vuoi tornare insieme a uno oppure no molla 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 e blocca hai partecipato al matrimonio di Chiara Facchetti ancora? no è passato un mese basta no non ho partecipato penso che al giorno d'oggi sia strano non avere ansia non il contrario tu che ne pensi hai ragione sì hai ragione non credo più nelle relazioni come fai a crederci ancora dopo aver subito dei tradimenti tutti possiamo sbagliare e tutto è comprensibile ma secondo me la monogamia è romanticizzata a discapito della realtà delle cose e mi duole ammetterlo tanto ne ho già parlato in uno dei video precedenti di questa cosa di cosa ne penso della monogamia però nel senso anch'io ho avuto tantissime delusioni e ne avrò tantissime sicuramente altre però perché smettere di credere cioè se io sono così faccio bene a ricercare una cosa che voglio io e non andare dietro a tutti i pecoroni che ci sono adesso per stare dietro la massa cioè che palle non lo so ti senti mai rotto come se ci fosse qualcosa da riparare dentro di te non difettoso senti solo le conseguenze delle cose che ti sono state fatte e ti fa male potrei averlo scritto io questo messaggio perché sì è esattamente così che mi sento sempre mi è dispiaciuto non essere stato invitato al matrimonio di Chiara? beh sì ovviamente però sapendo che tipo di matrimonio era quindi solo con alcuni dei familiari più stretti non è che uno dice vabbè ci sono rimasto male e volevo l'invito uno capisce ma ne ho già parlato e non ce le avevo risultate perché mi chiede sempre le stesse ose cioè mi fate le domande e poi non guardate i video dove rispondo hai un piano B quando YouTube andrà male? sì l'eredità non si dice perché tanto qualsiasi cosa dico la gente poi la prende male quindi sto zitto comunque sì ce l'ho dici qualche gossip che non abbiamo mai saputo tipo su Kiss & Makeup e Purple Chocolate sappiamo che tu sai se sapete che io so e non ho detto significa che non posso dire anche perché non voglio eventuali denunce e poi basta ma ancora parlare di loro lo sapevo ma ancora appare sti video di M di te che ti compri cose costose o te che mangi in auto ma chi cazzo importa un giorno avrei qualcosa di interessante da dire che le solite quattro put not o io vi tocca censurarlo tutto sto messaggio amore allora io non so dove vivete comunque ci sono delle tipologie di video qua su YouTube e adesso stanno prendendo piede anche su altri social che sono proprio quelli quindi video all unboxing video mukba e video chiacchiericcio così quindi io non so te dove vivi comunque se vuoi andare a vedere un video di qualcuno che parla di scienza per esempio puoi andare da Barbascura X che io amo puoi andare da i geologi che ora non mi dà nel nome mi ci sono iscritto l'altra sera che mi piace tanto comunque gente acculturata che parla di argomenti seri è pieno vai da loro invece di sta a perdere tempo con me ok e poi tutte ste parolacce ma la mamma ti ha insegnato l'educazione con chi suoneresti tra Ricky Martin e Maluma uno davanti uno dietro tuo fratello è sposato no a meno che non mi abbia invitato anche lui no regola no tuo fratello ha rapporti con tua madre beh sì penso di sì ti stai frequentando ancora qualcosa di cui ti vergogni del tuo corpo eh ve l'ho fatto vedere qualche tempo fa il mio buchetto qua una tua stranezza che non hai mai detto eh mamma ce n'ho tante amore allora non so se può essere una stranezza oppure no però faccio la cacca con le gambe sollevate nel senso la faccio come cinese che mi metto una cosa sotto i piedi per stare più sollevato tipo per stare così non so quanto può essere strana questa cosa comunque la faccio la tua relazione più lunga quanto è durata tre anni pensi di cambiare di nuovo casa eh quando riuscirò a comprarla sì infatti boiondo platino stavi meglio e quando sono biondo mi dite tutti che sto meglio nero ora a parte che mi devo fare la pelle basta un talento che vorresti avere vorrei saper cantare tantissimo sei mai stato in un rapporto in cui non era né frequentazione né amicizia come sei riuscito a uscire da questo limbo che vuol dire non l'ho capita cioè o ti frequenti con uno e quindi ci fai pam pam o non ce lo fai perché siete amici non riesco a capire comunque per uscire da qualsiasi rapporto prendi le bolze in mano guardati allo specchio e mi merito di meglio e non accontentarmi di questa merda forse ti sfoghi in cose materiali perché hai un vuoto psicologico e spirituale hai degli ideali o una tua visione del significato del mondo e della vita ti trovo molto intelligente ma a volte penso che potresti trovare un equilibrio migliore maturare anche spiritualmente ti auguro il meglio allora se per spiritualmente intendi la religione io ho sempre detto che non credo e soprattutto penso che la religione sia una cavolata una cosa inventata per far star buono l'uomo e per farlo essere e per essere controllato da chi di dovere e soprattutto è stata inventata la religione migliaia di anni fa dalle persone che vedevano determinate cose che succedevano al mondo e non riuscivano a dargli una spiegazione scientifica e in più avevano paura della morte non sapevano cosa aspettarsi se sono secondo me inventati tutta sta roba detto questo ognuno può credere in quello che vuole se a una persona fa star bene l'idea che esista un essere supremo che tutto può e tutto vede ci sono io per dire no non lo devi dire fallo chi se ne frega ma il mio non credere non c'entra niente con il mio volere cose materiali il mio volere cose materiali è una passione mi piace ok probabilmente è dovuto anche a vari traumi che ho avuto da ragazzino ma non c'entra niente l'essere vuoto spiritualmente ok la mia religione Taylor Swift ciao Cri la mia domanda è imbarazzante riguarda il pem pem diciamo nel retro bottega ah ok si può preservare l'ambiente diciamo intatto senza che si rovini dopo le varie volte che viene usato sì se vai con gli accendini bic e se no prima o poi si usura questo messaggio non posso leggerlo che è un'offesa di Diego no domanda ma confessione ho sognato di fare pem pem con te e non era niente male che bello meno male ci spieghi la routine completa per la preparazione ai rapporti sul retro è un tabù da sdoganare e tu non hai quelli sulla lingua ma io in realtà quando avevo ottissima l'ho fatta l'ho fatto questo tutorial adesso non più perché mi bannerebbero ma ma perché c'è uno che mi sta scrivendo l'inglese ma io non capisco hai trovato qualcosa di serio su Grindr sì devo dire di sì basta non andare a cercare chi ti manda la foto del pene subito se vuoi una cosa di serio e soprattutto se sei su Grindr innanzitutto non puoi pretendere di conoscere uno che incontri lì e fin da subito fare cose serie ok la devi prendere per quello che è solo su Grindr tutti vogliono pamper e pampare magari non contro per un drink poi dopo se ci scappa qualcosa bene se nel 7% dei casi il giorno dopo ti scrivi ancora ci sono buone probabilità che può diventare una frequentazione un po' più seria rispetto al banale one night stand è anche vero che dipende molto anche dai luoghi in cui abiti per esempio io ho sapere detto qui a Milano è super difficile perché la domanda è alle stelle c'è tantissima possibilità di fare un one night stand perché tanto le persone non finiscono mai e le persone diciamo che sono molto superficiali su questo punto di vista quindi però se lo desideri accade e con questa perla della somma Barbara Durs io direi che questo video lunghissimo infinito può terminare qua vi ringrazio tantissimo per i complimenti per le domande carine e anche le offese che in anonimo mi avete fatto rifarò molto spesso questa tipologia di video mi diverte molto sapere cosa pensate realmente di me o comunque in generale delle cose per chi ci fosse rimasto male per alcune delle mie risposte mi dispiace ma comunque un popular opinion io sono così e la verità la devo dire magari farò anche un video dove dirò delle cose false mi è venuta un'idea per un video bellissima ok tipo che dirò delle cose alcune sono false voi dovrete poi scoprire dove ho mentito oppure no vabbè vedremo tanto l'anno ancora è lungo mettetevi piace a questo video se vi è piaciuto io vi auguro una buona giornata a tutti grazie mille per essere stati in mia compagnia mi sono appena reso conto che qua c'è la luce quindi si vedrà malissimo tutto il video ci vediamo domani con un altro prossimo video ciao ciao